L'idea è quella di creare un appuntamento che duri nel tempo, riprendendo una delle tradizioni più importanti che Soverato vanta. Stiamo parlando della gara ciclistica Fiorenzo-Viscomi, a cui è dedicato il Memorial, che si svolgerà nell'intera mattinata di domenica 9 settembre e che dopo 12 anni ritorna nella cittadina Ionica. Una tradizione legata ai festeggiamenti patronali di Maria Santissima Dolorata, tiene a precisare Teo Sinopoli, organizzatore della manifestazione. Fortunatamente ci siamo ritrovati e quindi abbiamo unito le forze per portare avanti un progetto che speriamo di migliorarlo e di ingrandirlo nel tempo. Oggi non abbiamo presunzione di anticipare eventuali edizioni, però abbiamo la grande volontà di far crescere un evento riscoprendo, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, il mondo degli amatori. Gli amatori, dei ciclo amatori, che è sicuramente di gran lunga più numeroso sia dei professionisti che degli esordienti. Quindi i numeri sono altissimi e quindi cercare di portare a Soverato in un periodo, diciamo, dopo la stagione estiva, un evento che possa attrarre famiglie e quant'altro, a farle soggiornare e quindi avere delle ricadute, dal punto di vista turistico, nella nostra città, nel nostro comprensorio. Io volevo precisare una cosa. Le melanzane ripiene sono una tradizione delle famiglie. La sagra delle melanzane ripiene, come riportato su tanti giornali, anche nazionali, non c'entra niente. La sagra delle melanzane ripiene era legata al mese d'agosto, quando Fiorenzo Viscomi organizzava le sagre di mezz'estate. E non era neanche la sagra della melanzana, era la sagra della pasta con la melanzana. Ritornando alla gara, la vera tradizione della settimana, della festa patronale Marisantissima, a Dolorata era la gara ciclistica, addirittura io ho delle foto e dei filmati del 1952, quando le prime gare ciclistiche venivano fatte sulla strada a Sterrata. Entrando nel merito della gara, che al momento vanta circa 100 corridori, come si svolgerà? Tecnicamente noi abbiamo il raduno, si chiama la punzonatura, alle 8 di mattina, domenica 9 settembre. Finita la punzonatura, la partenza è prevista per le 9 e mezza, da Corso Roma, all'altezza della scuola elementare, dove c'è il raduno per le varie iscrizioni. Partiamo con un primo giro ciclo turistico, giusto per far conoscere il percorso ai concorrenti, e iniziamo con la partenza poi ufficiale, quando arriviamo in Laganosa, all'altezza del Simpli. Perché? Perché intanto per onorare il comune di Satriano, e non solo. Noi dobbiamo dare merito a chi, come imprenditore, ha creduto in queste iniziative. Il mondo dei ciclo amatori, un settore ampio che fa da traino a quello professionistico, ci spiega Pino Vitale, organizzatore della manifestazione, insieme a Sinopoli. Infatti noi ciclo amatori, penso, io come la penso io, sosteniamo proprio il ciclismo in Italia, perché le aziende sono, ah i ciclo amatori che vendono le biciclette, e sono costosissime. Noi quindi ci mettiamo del nostro. Ora, venendo a questa gara, io ci terrei moltissimo che questa manifestazione si potesse ingrandire per arrivare almeno ad ospitare almeno un 300-400 corridori. Sono manifestazioni che possono portare molto prestigio al comprensorio. Quindi ci tengo che questa gara vada avanti. Un'opportunità economica e turistica da non sottovalutare continua Vitale e che potrebbe portare in città gli amanti delle due ruote anche da altre regioni d'Italia. Portare anche ciclo amatori da tutte le regioni. Certo, Soverato questo lo può fare perché è un territorio stupendo. Potrebbero venire, ma anche io quando vado in giro vado con la famiglia. Partecipavo anche alla Nove Colli che si svolge a Cesenatico. E quella è una manifestazione che nel 1973 erano sette corridori a farla. Adesso sono in 19.000, quindi è una cosa che penso che potremmo, certo non arrivare a quei traguardi qua a Soverato, però è una manifestazione che potremmo portare avanti indubbiamente.